Salto, da quanti anni è che ti sei lasciatati? De te? Deve un cameriere. Guarda che c'è qualcosa che brucia, eh? È le robbie, spera. È possibile che dopo tre anni in istituto alberghiero ancora non è in grado di culminare un peso di carne? Che ha proprio talento io, mamma? Io ero felice. C'è questo che vuole a Marco. Vuole. Quello è Marco. E cosa fa? E se fa uno in un cilipono, cosa fa? Ma va tutto bene, Lucia? Ah, benissimo. Nostro figlio ha il corpo più grande che io abbia mai visto. Non sai che eri d'Italia, vero? E comunque non l'hai preso da me! Io ce l'ho normale! Vero, Lucia? Normale. Ma non la parola, no. Buongiorno, capo. Deve essere una replica del dottor House. Ciao. Come lo vedi, sta Federica? Ma secondo te lo sai? Io devo stare calma. Dopo quello che hai fatto tu a casa mia. Ma va, fa culo! Ora mi cazzo, eh. Allora, così. Cosa fai tu? Cosa fai tu? No, siamo quasi con il suo. Siamoci del suo falso. Molto bella questa casa, eh. Grazie. Ma è una casa da cinema. Che fai che sei arrivato il pollo? Sei tu che hai voluto parlarti a pranzo. Che mi guarda. Che mi guardi, congiuntivo. Per colloquiale. Signora, vuole assaggiare del cazzo turino? No. Ma avere un pisano grosso non è un talento, Marco. E poi vorrei sapere, la gente e gli altri, che piacere ne ricavano. Marco, invece, ha preso dal padre o no? Secondo te perché sono sempre così allegra?